Sono quattro le misure cautelari emesse nei confronti di altrettante persone che facevano parte della banda che dal 2019 ha messo a segno sei furti per un totale di 600 mila euro circa di bottino ai danni di alcuni istituti di credito dei territori in provincia di Chieti, Pescara e Teramo. Tre i tentati furti per un totale di nove episodi attenzionati dalla squadra mobile di Chieti. Delle quattro misure di custodia cautelare tre sono in carcere emesse nei confronti di un 62enne romano specialista in effrazioni e un 70enne e un 51enne di Pescara che fungevano da organizzatore Paolo. La quarta misura cautelare è invece ai domiciliari nei confronti di un 60enne di Pescara definito l'infedele. Era lui che, lavorando per una ditta che si occupava di manutenzione e installazione di casseforti, forniva codici e chiavi d'accesso alla banda per scassinare gli sportelli ATM degli istituti di credito. Le indagini sono partite nel 2019 dopo un furto messo a segno ai danni di un istituto di credito di Corso Marruccino, come spiegato in conferenza stampa questa mattina dal questore di Chieti Annino Gargano e da Miriam D'Anastasio, capo della squadra mobile di Chieti. Si tratta di soggetti che, oltre ad avere un curriculum criminale specifico per questo tipo di reati, è stata assolutamente capace di organizzare nei minimi particolari ogni singolo evento. Ognuno dei quattro componenti aveva un ruolo specifico, quindi abbiamo l'organizzatore, colui che selezionava gli obiettivi che potevano essere attenzionati, abbiamo la figura del palo che, oltre a selezionare, faceva sì che l'attività criminosa venisse posta in essere, in tranquillità, tra virgolette. Poi abbiamo lo specialista, colui che effettivamente portava a compimento i furti ed abbiamo quello che abbiamo definito l'infedele, ossia il soggetto che forniva i codici, in grado di fornire i codici di sblocco, di apertura delle casse forti, le chiavi per poter accedere ai locali e permettere così al gruppo, alla criminale di agire. Un'indagine lunga, faticosa, dove la bravura degli investigatori ha fatto sì che, mettendo insieme tutte le tecniche investigative a disposizione, siamo arrivati ad avere il risultato odierno. Abbiamo ricostruito due anni di attività del gruppo criminale, dove sono stati portati a compimento nove furti, di cui sei effettivamente realizzati e tre tentati, quindi dal 2019 all'ultimo episodio di giugno 2021.